Lo chiamano bonus bebè, ma in realtà è un aiuto alla famiglia. Assessora Romano, siete tra i primi in Italia a fare che cosa? Lo diciamo ai nostri telespettatori. Diciamo che questo è un supporto alla genitorialità e alla famiglia. Siamo i primi in Italia a dare un contributo di 200 euro ad ogni nato nel nostro comune, nel nostro ospedale. Che cosa bisogna avere per avere questo buono? Diciamo che si può avere tutto per avere questo buono, perché innanzitutto si avrà un figlio, si deve avere un figlio. Quindi un ISEE inferiore a 40.000 euro, quindi credo che la maggior parte delle persone possano entrare in questo contesto. Come diceva lei, siamo i primi in Italia e adesso sembra ci stia seguendo il Piemonte. Il Piemonte è una regione che per quanto riguarda l'assistenza e la sanità è abbastanza attenta. Però noi l'abbiamo fatto perché si parla tanto delle difficoltà delle famiglie, della difficoltà dei genitori. Quindi il comune di Gorizia, oltre a dare un buon servizio con gli asili nido, un centro bambini e famiglie e quant'altro, è reputato opportuno di dare questi 200 euro perché sappiamo tutti quanti che al momento della nascita ci sono tantissime esigenze sia per la madre che per il bambino. Quindi queste esigenze sono per prodotti che sono indifferenti a come spendere i soldi? Sì, vorrei sfatare il fatto che qualcuno ha detto che questo è un incentivo all'allattamento artificiale. Le persone, le famiglie che hanno avuto dei figli sanno che è appena nato un bambino, ci sono dei problemi anche per la madre per quanto riguarda la sua salute stessa. Dice, parliamo una volta alla mia età, quando ho fatto i miei figli si parlava di moroide, adesso mi dicono che questo problema è meno sentito, però ci sono anche altri problemi. Quindi sono delle medicine che la mutua non le passa, quindi queste persone possono spendere i 200 euro in tutto ciò che è inerente a un postparto, sia per la madre che per il bambino. Ci sono delle differenze nel senso di chi è nato fino a febbraio va da una parte a prendere questo buono e invece chi è nato dopo? Allora, visto e considerato che questi buoni sono retorativi, cioè dal 1 gennaio, i bambini nati dal 1 gennaio al 28 febbraio, i genitori dei bambini nati possono venire a ritirare i buoni presso i nostri servizi al Polivalente, mentre dal 1 marzo fino a conclusione di questo progetto verranno consegnati loro i buoni direttamente dall'ospedale.